Le Grotte di Pertosa hanno comunque vinto di nuovo la scommessa con il turismo? Le Grotte dell'Angelo a Pertosa, la Fondazione Mida oggi è impegnata su un punto nodale. Noi oggi finalmente siamo nella condizione, stiamo lavorando per questo e quindi per l'estate siamo pronti a farlo, ma soprattutto per il 2011, siamo lavorando per quel sistema Mida, nel senso che abbiamo già aperto i musei, ma li metteremo sempre più al sistema con un biglietto unico, ma sempre in rete con quelle che sono le emergenze del territorio. Non dimentico Buccino, non dimentico l'Antica Volce, non dimentico Teggiano, non dimentico Padula, su quale già c'è una collaborazione, ma c'è inoltre anche un'attività che è quella di mettere insieme anche una offerta naturalistica, per esempio quella di creare un circuito delle Grotte del Salernitano e del Parco Nazionale del Centro e del Vallo di Diano. Siamo in contatto con Morigerati, Castelcivita, Pertosa, Oletta e il Parco Nazionale del Centro e del Vallo di Diano proprio perché i sindaci hanno avuto la brillante idea e la volontà di fare rete per fare un'offerta a un turismo naturalistico che è molto richiesto. E che soprattutto non duri soltanto per l'estate ma che copra tutto l'anno. Sì, che sia un itinerario che possa far trattenere che con l'idea di fare un circuito delle Grotte, poi vanno alla Certosa, poi vanno all'Antica Volcei, poi vanno a degustare i prodotti locali, tipici locali, insomma che ci sia chiunque si mette in campo per fare un'offerta di qualità, allora si mette in circuito e può fruire di un pacchetto che noi dobbiamo realizzare insieme.